Una data simbolica all'interno di un cantiere già di fatto aperto, posata la prima pietra dei lavori realizzati lungo la strada provinciale 34 del Cardo, antica via romana di comunicazione da nord a sud. Inizieremo la realizzazione di una pista ciclabile lungo la via del Cardo romano, quindi la via principale del paese insieme al Decumanus, via Desman, che però è già stata fornita con l'ultimo pezzo di pista ciclabile nel 2020. Oggi iniziamo questa grande opera che mette insieme più enti diversi, quindi oltre alla fognatura, alla rete idrica, avremo anche la pista ciclabile, l'allargamento della strada di oltre un metro e mezzo, una nuova rete luminosa e una nuova pensierina smart per la mobilità sostenibile. Un servizio alla comunità con l'ampliamento della strada, un servizio all'ambiente con Etra che per i lavori stanza 1.350.000 euro. Riduciamo gli scarichi di superficie, quindi l'inquinamento, quindi i benefici sono di tipo ambientale. Ecco, noi oggi come Etra copriamo circa il 75% delle nostre utenze, mentre siamo quasi al 90%, 95% con l'acquedotto e quindi uno dei nostri obiettivi è quello di riuscire a dare al nostro territorio una rete fognaria che permetta ai reflui di andare ai nostri depuratori. Un lavoro realizzato in sinergia tra i vari enti. La maggior fonte, diciamo, di queste risorse è la legge 39, la legge 39 del 91, una delle, credo, delle leggi più efficaci che il Consiglio regionale abbia prodotto e si vedono i risultati sul territorio. Questa è un'opera modello perché il Comune ha saputo mettere a regia tutti gli enti coinvolti, appunto la provincia, essendo questa una strada provinciale, l'Etra come società è realizzatrice appunto delle infrastrutture fognarie e acquedottistiche e appunto con il contributo alla ragione è riuscita a fare quest'opera di 2 milioni e mezzo di euro che dico è un modello che va esportato.